Ciao a tutti ragazzi, bentornati con il mio canale. Oggi i signori sono qua tornati in un nuovissimo video perché oggi andremo a parlare, signori, di Antonio Conte. Infatti proprio l'allenatore ex Juve, ex Inter, ex Chelsea e di tante altre squadre ha lasciato il Tottenham, o meglio, il Tottenham ha allenato Conte. Ovviamente questa cosa era nell'aria, ma era nell'aria già da mesi, mesi, mesi. Cioè era, non dico certo, ma il 99% Conte alla fine della stagione avrebbe comunque lasciato il Tottenham. E su questo c'erano pochi dubbi. Conte ha detto più volte che vuole tornare in Italia. Infatti anche Sky Sport l'ha detto, ha avuto in questi ultimi mesi anche un problema, ha avuto la cistifillea, mi sembra la cistifillea, ha avuto questa diciamo malattia che l'ha tenuto per qualche gara diciamo fuori, ma fuori comunque dalla sua panchina, diciamo, quando comunque allena. Ma è stato comunque un po' con la famiglia. Ovviamente la sua famiglia vive a Torino. Io conosco pure la figlia di Conte, quindi... Se non la sapevate questa cosa, ma anche se l'ho vista una volta nella vita, ma comunque... No, una volta no, però l'ho vista quando ero, diciamo, bambino e comunque diciamo che la conosco, ecco. Però comunque sì, la sua famiglia vive a Torino. Credo che Conte, personalmente, si prenderà almeno due anni di pausa. Almeno due. Sapete che non ho la più pallida idea dove Conte possa andare a allenare. Io ho un sentimento che mi dice Italia. Ho questo sentimento che Conte andrà in Italia, però non ne sono certo. Cioè, non mi sorprenderei se Conte andasse da un'altra parte. Conte è un allenatore che al Tottenham ha fatto nel primo anno bene, perché era subentrato a... Non mi ricordo chi è un allenatore, comunque, ex Wolverhampton. E da novembre, fino comunque a giugno, aveva fatto comunque bene, aveva raggiunto anche il quarto posto. Quindi male non aveva fatto, ecco. Però, quest'anno, i risultati sono brutti, ragazzi. Sono brutti, perché non puoi uscire in questo modo agli ottavi di Champions. Rischiavi di non passare il girone. In FA Cup hai fatto poca strada. In campionato, nonostante comunque il Tottenham, se non erro, adesso vado a controllare, ma dovrebbe essere così, è quarto in classifica. Insomma. E sì, un buon risultato, perché il Tottenham, secondo me, ha una rosa anche inferiore rispetto ad altre scuole che sono sotto, però. È quarto, sì, ma ha due partite in più del Newcastle. E ha due partite in più del Liverpool. Ha tre partite in più del Brighton, ragazzi. Cioè, calcoliamo anche questo fatto, ragazzi. Quindi, nel senso, sì, quarto, ma con due partite in più rispetto a parecchie altre squadre. Ripeto, io, a me Conte, personalmente, come allenatore, non l'ha mai fatto impazzire. Per tanti motivi. Io ritengo che i suoi allenamenti siano troppo duri per i giocatori, perché allenarsi è molto molto importante, su questo non c'è dubbio. Soprattutto, per quanto i calciatori guadagnano ogni mese, una cifra fuori... Cioè, una cifra comunque spropositata, che nessuno di noi guadagna, ecco. E dovrebbero allenarsi tutte le ore per quanto guadagnano. Però anche loro sono esseri umani, hanno la loro vita, hanno comunque il loro riposo. Quindi, secondo me, gli allenamenti di Conte possono andare bene, ma non in questa maniera. Perché, veramente, se tu spompi un giocatore, intanto rischi di, veramente, fargli anche male. Nel senso che, comunque, quando uno si allena tanto, 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 rischia. Più gioca, più minuti accumula nelle gambe. Rischia di farsi male, ragazzi. Rischia di farsi male. I giocatori, dopo un po', si stancano di Conte. Infatti, è quello che è successo. E i cicli di Conte durano sempre due anni. Un anno. Perché Conte, dopo un po', ha una rottura di palle. E questa cosa, chiaramente, non la dico io. Cioè, sarà mai un caso che, con ogni club, Conte si è lasciato male? Forse all'Inter non si era lasciato poi così male, effettivamente. Però, ti parla Juventus, si è lasciato male. Al Chelsea, non ne parliamo. Al Tottenham, non ne parliamo. All'Inter, forse, si è lasciato, diciamo, un po' meno male, ecco. Cioè, per me, all'Inter Conte ha fatto veramente un grandissimo lavoro. All'Inter Conte ha veramente fatto molto, molto bene. Ma per me è un allenatore che non passa i gironi. Per due volte è fallimento in Champions League. Nelle coppe, Coppa Italia e Supercoppa, non ha fatto bene. È andato, ha fatto molto bene in campionato. Però io, se chiedo sulmeno a un interista, se Conte, comunque, gli sta a cuore, mi dice di no, ragazzi. Ma è palese, ma anche per le sue dichiarazioni, ragazzi. È un allenatore che, veramente, spompe i giocatori. Spompe i giocatori per me è sopravvalutato. Perché è bravo a ricostruire una squadra che magari sta andando male. Però, poi, dopo un anno o due, lo spogliatore si rompe. E questa è una cosa che non succede alla Juventus. Perché non succede? Perché Allegri... Ovviamente, l'Allegri 2.0 è stato, chiaramente, un fallimento. Cioè, fino ad ottobre. Poi adesso non più, però. Fino all'ottobre del 2022, l'Allegri bis è stato un fallimento enorme. Ecco. Sicuramente ora non è che Allegri sta facendo benissimo. Perché, comunque, Allegri ha, sì, fatto tanti punti, ma si gioca male. Comunque, siamo secondi. Perché, tra l'Allegri non ha fatto male. Anzi, Allegri ha fatto bene. Però, in questo, sicuramente, Allegri bis ha fatto male. Se guardiamo tutte le partite, eccetera, eccetera, in questi due anni, un anno e mezzo. Ecco. Però, perché l'ospedatorio di Allegri non si è mai rotto? Per esempio, il fatto che Allegri è un gestore. Allegri è bravo a gestire le situazioni. Perché, magari, Allegri, nell'immediato, non fa benissimo. Magari nei primi due anni, magari i trofei non li portano, nel primo anno. Poi, però, dopo un po', Allegri vince, 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 vince. Coppe, su coppe, su trofei, su trofei. Almeno, questa è la sua storia. Ce l'abbiamo vista alla Juventus. L'abbiamo vista al Milan. Comunque, è un allenatore sicuramente molto, molto bravo. A mio avviso, è più bravo di conto. Ovvio, non in questo momento, però. Soprattutto, fino al 2019, è stato veramente, ha fatto veramente gli straordinari con la Juventus. Si è lasciato bene con la Juventus. I tifosi, almeno a me, Allegri, sta comunque affezionato anche in questo momento. Anche in questo momento, anche quando Allegri sta facendo schifo. Io, veramente, Allegri avrò sempre un ricordo positivo. Rispetto ai vari Conte, ai vari, soprattutto, Sarri, che non ne parliamo. Anche Pirlo mi sta, non dico a cuore perché è un termine eccessivo, però anche Pirlo ho un ricordo positivo. Però, comunque, lui è stato, comunque, ha dovuto allenare una squadra che veramente, cioè, Pirlo non aveva mai allenato. Cioè, aveva il patentino. Cioè, non mi ricordo neanche se ce l'aveva, ma dove, in teoria, ce l'aveva la Juventus. Ha dovuto fare un corso, mi sembra, da allenatore. Allenare la Juventus next gen, la Juventus under 23, cosa che sarebbe stata perfetta, poi, secondo me. Sicuramente Conte è un allenatore che, ripeto, è bravo a ricostruire squadre che sono, ormai, cioè, comunque, sulla via di fare male ogni stagione, capito? Questo è bravo, per carità, però, dopo un anno e due, ciao, ciao, lo spogliatoio, lo spogliatoio, scusatemi, si rompe. Ecco. Poi, chiede una maria di soldi, eccetera, eccetera, quell'altro. Poi, con la Juventus, veramente, si è lasciato malissimo, ricordate il dito medio, anche a Danielli poi, quando era all'Inter. Ricordate, ecco, tutto. E io, di Conte, non ho un ricordo positivo. Sarà perché io, Conte, comunque, alla Juventus, sì, l'ho visto, ma non mi ricordo praticamente niente delle partite in cui c'era Conte come allenatore. Ecco. Io, se vi devo dare una opinione, credo che l'avrete anche un po' capita, Conte alla Juventus, assolutissimamente no. Cioè, preferisco, preferisco, piuttosto, un palladino. Palladino è un grande allenatore, lo vorrei immediatamente, piuttosto che un Conte, così. Cioè, veramente, Palladino è un allenatore straordinario, su me è al Monza, anche lui non ha mai allenato al Monza, sta facendo qualcosa di incredibile. Molto sottovalutato Palladino. Lo preferisco anche di più, magari, ad italiano e ad altri, ecco. Però, Conte non lo vorrei. Io, ripeto, se devo darvi una mia, comunque, opinione, cioè, comunque, se devo dirvi la mia, io, ripeto, questo sentimento di Italia ve l'ho già detto, anche se non ne sono certo al 100%, cioè, magari dopo due anni torno ad allenare. Però, se proprio devo dirvi una squadra che Conte potrebbe allenare tra due anni, vi dico il Milan. Perché? Perché il Milan, secondo me, tra qualche anno starà di nuovo messo male. Per me, il ciclopioli di Milan, non dico se è finito del tutto, ma, cioè, secondo me è finito. Anche se il Milan dovesse raggiungere la finale di Champions, cosa che credo che possa succedere davvero. Comunque la finale di Champions la raggiungesti, eventualmente, facendo fuori avversari non fortissimi. Perché il Milan contro il Bayern Monaco sarebbe stata già fuori. Contro la Madrid, stesso identico discorso, con il Manchester City, stesso discorso. Cioè, il punto è che questo Milan con Piori quest'anno a me non convince. Cioè, io ve lo dicevo, ragazzi, io ve lo dicevo, già a novembre, quando il Milan vinceva in quel modo lì. E il Milan non convince. Ero sicuro che il Milan quest'anno avrebbe vinto. Perché per quanto il Milan sia una squadra che non molla mai questa cosa, comunque, è straordinaria. L'anno scorso, ragazzi, ha vinto lo scudetto per meriti tuoi, ma perché l'Inter è calata, ragazzi. Per un Napoli che è calato. Quindi, lo scorso anno, cioè lo scudetto lo scorso anno al Milan, non è pienamente meditato, a mio avviso. Ecco, godo, perché ho goduto, ma non è pienamente meditato. Per quanto riguarda la Roma, io credo che Morigno, almeno un'altra stagione resterà. Non escludo se eventualmente Morigno andasse via, ma non credo andrà alla Roma a Conte. Non ce lo vedo particolarmente bene. Per quanto riguarda l'Iventus, io spero di no. Ma ho anche questo sentimento che potrebbe tornare, ripeto, mi auguro di no, all'Inter, ma in la vita. Perché non credo che l'Inter andrà a acquistare Conte, Marotta, non è uno che fa queste cose, ecco. E nulla, questo video, spero che vi sia piaciuto. Finisce qui. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao, raga.